il romanzo di san carlo borromeo le opere e i giorni di un intellettuale milanese di fabiola giancotti capitolo ottavo la peste e l'immunità del tempo liber memorialis peste restincta 1579 quello firmato da san carlo borromeo costituisce forse il migliore e più paradossale trattato di immunologia e importa un dettaglio nel memoriale ai milanesi la peste non offre nessuno spettacolo sacrificale irrimediabile impenosa attuale ciascuna volta introduce un'identificazione non una dipendenza con questa peste milano viene scaraventata nel tempo sulla peste molte cronache ma su quella di milano del 1576 nota come la peste di san carlo abbiamo trovato una testimonianza davvero interessante quasi una lettura quasi una restituzione inserito nelle storie patrie incastonato tra i fatti della peste del 1524 e di quella del 1630 è un testo breve di giuseppe ripamonti storico scrittore a volte poeta proponiamo la traduzione del dandolo del 1856 che lo pubblica anche come materiale delle sue ricerche nel 1524 dalla peste la città esce prostrata debole decimata senza avere tratto nessun elemento per la ricostruzione la peste utile soltanto per la morte così cominciò la peste del 1524 ma prima sporrò un avvenimento tocco alla nostra città più brutto ancora del sopravvenirle di quel re nemico vuodir la peste la qual mentre il re muoveva di casa sua con l'esercito e superava le alpi avanzandosi a grandi giornate stremò con la infezione e coi funerali milano e dall'arrivare dei francesi di ella ad essi mano a porte spalancate co cittadini che eragli rimasi per sé vinti e incatenati principiò la moria ad abbiate dove bonivet venuto da chiaravalle avea posto il quartiere di là diffusa per le vicinanze facilmente penetrò dentro le mura e le invase occupandovi i corpi e le case per contagio delle masserizie che i già marci francesi lorché furono cacciati aveano lasciate dietro di sé e primamente molti soldati al contatto di quelle robe ammalaron e morirono indi chi li curava e chi li visitava e chi rendendo loro qualche servigio toccavali vicini servi amici chiunque ne aveva anche unicamente espirato l'alito e tocco il vestimento ecco che assorbiva il male e trasferivalo ad altri i quali alla loro volta contaminavano altri molti con la presenza col fiato sicché spargendosi ovunque il contagio più ratto che non si crederebbe la intera città n'andò presa in moltitudine di morenti vi fu vista giaccer al lato a moltitudine di morti sendo che vennero pretermesse le consuete cure di rimuovere le misrande reliquie a cui gli sguardi inorriditi dei superstiti rifuggono questo vito perio era alimento ed accrescimento del male giaceano infatti per le vie e nelle vuote case amucchi i cadaveri minacciando d'ugual fine gli anco vivi a quali il fetore la malinconia e quelle fere immagini di morte null'altro desiderio lasciavano che di prestamente alla loro volta su quei mucchi cadere unico rimedio apprestato dalla stessa moria nell'assoluta assenza di una direzione assente l'arcivescovo fuggiti i governanti i mercenari ministri furono come mandriani di gregge altrui che al primo comparire della moria fecero fardello e se ne andarono e così finì dio si placò finalmente e al compiersi del pestilenzial anno che fu il 1524 dopo cristo i milanesi trovaron si spogli di qualsia metropolitana maestà ridotti a piccolo spregevole popolo e siccome i corpi son presti a sciorsi tardi a crescere così lento fu il riaffollarsi della cittadinesca moltitudine gli atti a figliare scarsi attoniti vuoto il più delle case disabitati anche i palagi sotto ogni tetto splendido odumile solitudine e silenzio vie e trivi teste gremiti di folla vestiti siderbe simili a landa e ciascun dei cittadini quasi alzasse il capo da scoperchiato avello spiar intorno la tuttavia minacciosa fosca luce diurna a gran fatica persuadendosi essersi manso e fatto il cielo giacere smussati i dardi della pestilenza e la vita riappresentarsi assicurata e però questa era veramente la condizione delle cose si poteva o mai respirare e di nuova progenie ristorare la città a cui sovrimpendeva il re francese quel d'esso che allora vittorioso india poco prigioniero era destinato a riportare oltre monte la vergogna della sconfitta e i ceppi da cui dove agli riuscir arduo disciorsi ripamonti fa di questa peste lontana materiale per pittori ma gli serve anche per trovare elementi differenti nella peste di san carlo altro infatti l'approccio altra la conduzione altra la dignità con cui carlo borromeo ha avuto l'audacia di combattere immediatamente alla prima notizia della peste l'arcivescovo è per milano quella direzione che mai si era instaurata i governanti come in altre occasioni fuggono ma la gente non ha dubbi il borromeo agli strumenti per non rendere mortifera la peste determinò che per tre giorni vivessero supplicazioni in tutto il popolo continue che tosto furono bandite bandite perché da ogni parte compresa roma ogni peste doveva riproporre il ricordo del contagio e della morte poiché così era il suo naturale sviluppo al cardinale reduce da lodi si fece incontro speditogli a furia dai decurioni un corriere che a lui pontefice e pastore notificasse la calamità sovrimpendente al popolo al gregge avvenne anche ogni gara di giurisdizione ogni rivalità di poteri era sfumata ne più restava speranza altro che nell'uomo divino allo entrare che fece l'attonita città scorgendo gran moltitudine in cocchi su carri a pie ingombrar le vie intenta a fuggire a campi prima che scisse decreto a trattenerla è narrato che piangesse mosse di filato al duomo e qui vi adorato dio risali la mula e in veste da viaggio com'era andò dritto alla casa da cui buccinava si è scito il contagio apparteneva a robbi gente patrizia già nota con cittadini ma che quel caso rese notissima qui vi giunto trovò che morta la padrona con alquanti figli e servi alcuni superstiti colti dalla moria sarebbero periti per mancanza di soccorso se le pie suore di sant'orsola non fossero accorse a curarli e quelli a ciò che non propagassero il male per ordine del cardinale furon tenuti in disparte ed impediti da qualsia comunicazione con sani passato di là al proprio palazzo vi si diede ansiosamente con suoi più fidati familiari e più prudenti ministri a consultare qua i pastorali soccorsi avessero a prestare caso che il morbo come era da prevedere allargasse le sue devastazioni e quali esempi a questo proposito somministrassero gli annali cittadini e le rimembranze patrie non per anco svanite con ciò si accosa che al diffondersi dei primi terrori erano emerse commemorazioni senza fine d'antiche e moderne pestilenze al cardinale che le raccoglieva consultava e studiava fecersi innanzi i principali della città e i regi i ministri a pregarlo che contro il micidial morbo invocasse anzitutto aprò della patria in pericolo l'aiuto di dio indi nello stupore e nella desolazione che li avea colti soccorresseli d'un qualche salutare avviso avendoli egli brevemente intrattenuti e benignamente confortati li rimandò e tornato alle sue consulte determinò che per tre giorni vavessero supplicazioni di tutto il popolo continue che tosto furono bandite ugualmente scuri in volto e turbati nell'animo convennervi magistrati patrizi i plebei quanti ne avea lasciati in città lo scomento perciò che gran turba come accennammo al primo terrore se n'era fuggita quasi che gli aperti campi e gli ameni ripostigli potessero esser riparo alle saette dell'ira celeste carlo sera da principio proposto di prodigare le sue pastorali cure ovunque fosse vista infierire la pestilenza senza rispetto a che che sgomenta l'anima umana per la imminenza del pericolo e quantunque avesse ciò seco stesso fermato nulla meno piegato dalle rimostranze di autorevoli personaggi si indusse a raccogliere il suo clero a consulta e richiederlo se era lecito a vescovo esporre ad evidente risico la vita nell'adempimento dei pastorali uffici sorsero disputazioni tra gli assembrati accordatisi per ultimo a dire non esser lecito a vescovo affrontare un certo attuale pericolo come farebbe chi aspirasse sgomberarsi d'attorno ad un colpo i tedi della vita avido di scaricarsene anzitempo udita la qual sentenza replicò il cardinale considerando le azioni degli antichi pontefici lor geste lor morti riscontrarle egli piene di virtù di costanza merce cui si fatti uomini sublimi disprezzarono la morte anzi l'affrontarono ogni qual volta si trattò di servire alla comune salute gravi personaggi presero allora dire esistere infatti antichi esempi di così severa virtù ma quei tempi esser passati nei dai fatti narrarsi che di santi replicò il cardinale appunto per questo star bene che il vescovo imiti cotali esempi e provisi a calcare le vie stesse che addussero quegli antichi al cielo detto questo sciolse la dunanza stese il suo testamento come se fosse in punto di morte distribuì danaro a familiari sborsò a ciascuno la mercede e deprestati servigi e all'ospital maggiore legò tutto quanto lo avere di cui sarebbe stato trovato possessore all'epoca del trapasso e così libero e spedito da qualsia briga intrepidamente di essi a frequentare il lazzaretto che era tenuto in conto di casa di funerali e col solo nome suscitava orrore per la peste come impropria reggia stanziata per cadaveri di cui era coverta la funerea campagna e per le sozzure del morbo che l'ingombravano peggiori del morbo stesso già nel racconto del ripamonti il borromeo non è fatalista si documenta negli archivi acquisisce nozioni di medicina di economia per la distribuzione del cibo dei vestiti per l'organizzazione delle cure ma anzitutto non lascia nessuno senza la parola e rilancia pratiche come la preghiera la celebrazione eucaristica i sacramenti indice assemblee e concili la ricognizione della devastazione nella sua città gli suggerisce non la pesantezza di un aiuto ultimo ma la leggerezza di un intervento in cui chi non è collaboratore lo diviene gestisce un'emergenza per la quale nessuno poteva fornirgli un suggerimento sulla base di un'esperienza già vissuta combina le cose in modo che nulla ci sia da salvare o da preservare scrive in questa occasione il suo testamento utilizza risorse inimmaginate accoglie proposte scommette sull'intelligenza e lascia che la fede operi si constatò in quell'occasione che chi non si abbandonò diede una mano all'arcivescovo e ne acquisì in salute ciò nonostante gli venivano opposte pratiche pagane mitologie mediche ottusità di ragionamenti la credenza di potere gestire contenere e arginare ed economizzare la disperazione la morte la parola la vita carlo borromeo trova giorno per giorno i modi per provvedere alle varie necessità delle persone colpite da contagio ma pure rimaste in città e che a lui si affidavano contrastato e disapprovato dai notabili le cui conoscenze rendevano loro incomprensibile il disegno addirittura accusato e denunciato l'arcivescovo mette in gioco le sue armi efficacissime poiché sono quelle della parola cioè la preghiera la speranza l'ascolto la fede il fare il concludere nella partita ci sono la vita e la salute la qualità di ciò che resta e di ciò che si scrive nel racconto anche l'intervento di san sebastiano e il giorno della sua festa come festa che segue alla constatazione che la peste come malattia è estinta che la peste non è più la morte il ripamonti conclude il suo racconto e non considera questa peste naturalmente malefica e punitiva l'onda lunga dell'era borromeca è appena incominciata e coinvolge l'inquieto ripamonti in modo interessante poiché egli coglie in questa un'altra nozione di peste rispetto a quella del 1524 e a quella del 1630 da cui anche manzoni attingerà per il suo romanzo la peste di san carlo vivissima nella memoria dei milanesi proprio rispetto a carlo borromeo severa come le altre ma non altrettanto devastante in fatto di sterminio di uomini forgiava la città e la rilanciava nella vita qualsiasi altra epidemia l'avrebbe lasciata morta decimata in cerca della fine e diffidente nella battaglia le testimonianze sono chiare al proposito storici artisti contabili medici e governanti l'unico spiraglio lo trovano nella peste di san carlo tutto il resto è rappresentazione senza scrittura errate valutazioni interventi intempestivi presunzione di conoscenza e ancora credenze e paganesimi accettazione della colpa e della pena sprofondano milano in un abisso senza ossimoro i cibi corrotti e l'aria maligna i vestiti il caldo la sporcizia e la miseria sono invece gli elementi su cui ragionano per spiegare il contagio i medici noti all'epoca il settala il cardano ma trovano soltanto rimedi se non espedienti di natura erboristica o superstiziosa a fatica cominciano a enunciarsi le prime elementari regole igienico sanitarie nel 1630 il rompe con potenza la caccia all'untore non decisamente combattuta dai notabili dell'epoca ma anzi in qualche modo tollerata sostenuta e avvalorata con la condanna e la messa a morte dei responsabili il linciaggio legalizzato della colonna infame di trista memoria gregorio tredicesimo dopo l'anno santo del 1575 di roma e quello del 1576 insolito voluto a milano dal borromeo interviene tempestivamente nessun pietismo e nessun abbandono l'esercizio l'occorrenza la tranquillità e l'impossibile credenza o paura del contagio sono le argomentazioni del breve inviato a milano e suggerite dal modo del cardinale che data la straordinaria occasione indice straordinarie misure processioni digiuni orazioni indulgenze concesse per occasione della peste questa peste dice san cipriano la quale ci pare piena di spavento orribile et fiera cerca diligentemente il debito ufficio di ciascuno et va investigando i cuori degli uomini et sta osservando se i sani servono agli infermi se i parenti amano con vera pietà i loro congiunti se i padroni si mostrano compassionevoli verso i loro servitori infermi se i medici pregati dagli ammalati abbandonano la loro cura se gli uomini bestiali rimettono la loro fierezza se i rapaci avari amorzano quell'insaziabile ardore d'avarizia almeno per timor della morte se i superbi abbassano le loro alterezze se i ribaldi depongono la loro scelleratezza se i ricchi che morti i loro figliuoli passeranno da questa vita senza successore danno et donano volentieri le loro sostanze e sortiamo dunque tutti voi che ciascuno per la sua parte sovvenga alle necessità e bisogni si degli infermi si degli altri uomini esclusi dal comun consorzio et sequestrati per sospetto di peste ne vogliate buttar via si grande occasione di meritare la somma et infinita grazia da dio onnipotente et abbiate per certo che le vostre fatighe et tutte le vostre opere le quali ponerete in ciò molto più giovaranno alla vostra salute che a quelli da quali averete cacciato il male impero che a quelli prorogarete questa breve et fugace vita et a voi stessi farete strada per arrivare a certissima et sempiterna felicità non vi è occasione alcuna che voi temiate tal pericolo di contagione già avviate per la celebrazione dell'anno santo queste misure trovano ora la loro ragione e la loro logica la qualità e l'efficacia di tali istituti manterranno vivi i milanesi scongiurando loro la manifesta offesa l'inestimabile danno e l'evidente ruina di una naturale e dilagante contagione questo è il principal rimedio senza il quale dobbiamo temere che poco frutto reale siano per apportare tutte le diligenze della prudenza umana in questo pubblico bisogno abbiamo visto con l'esperienza non senza nostro gran dolore appresso agli altri innumerabili peccati quali hanno provocato l'ira di dio a mandar sopra questa città il flagello della peste la sfrenata ed insaziabile avarizia di molti quali dimenticati affatto della propria salute del timor divino della carità del prossimo e dell'obbedienza che devono ai superiori non si sono astenuti di robbare nascondere e trasportare da un luogo a un altro robe o panni ammorbati o sospetti di contagione onde se dato non picciolo impedimento alla total liberazione di questo male e tacciò non si cammini in tenebre né si inganni alcuno col far giudizio che sia cosa leggera o di niuna colpa quel che in sostanza è più grave e pernicioso noi con questo pubblico editto dichiariamo che niuno fin qui ha possuto e maggiormente non potrà da ora innanzi contra li precetti e ordinazioni dei superiori pigliare contrattare robbare nascondere trasportare d'un in un altro luogo né in qualsivoglia modo né sotto qualsivoglia pretesto ingerirsi a por le mani nelle robe o panni non solo dei altri ma neanche negli suoi propri che saranno infetti o sospetti di contagione senza certezza di incorrere nella colpa di peccato mortale il cui frutto è la dannazione eterna poiché come già si è detto da questo tal disordine e dispregio di precetti dei superiori e principalmente di comandamenti divini nasce non solamente la manifesta offesa di sua divina maestà ma anche l'inestimabile danno del prossimo et ne può risultare l'evidente ruina quasi di tutta la città et vi anco certa coniettura che tal contagione ogni volta che non si estingua sia per dilatarsi alle città et luoghi convicini perciò ciascuna pratica liturgica pastorale ecclesiastica trova modo di rilanciarsi trova il motivo e l'autenticità che il concilio tridentino si era imposto di restituire ai cristiani gli atti della chiesa milanese si arricchiranno di dettagli norme formalizzazioni scrittura articoli note lettere e documenti materiale ancora oggi prezioso la peste la sanità il borromeo parla di sanità in tempo di peste quando ciascun elemento della vita si mette in gioco non quando ognuno cede alla vita lasciandosi prendere dalla paura del pericolo quando ognuno malato di peste crede di poter guarire dalla peste oppure di soccombere alla peste il cardinale dispone la sua giornata e organizza i vari dispositivi sino a che il tempo non ne provi la sanità questa è l'occasione tale è l'occorrenza non si avanzano alternative vediamo poi molti in mezzo a tali pericoli sfuggire la morte e molti invece abbattuti dal timore piuttosto incontrarla il rischio e l'impossibile economia della morte incolumità e immunità peraltro ciascuno può losingarsi di rimanere incolume e con maggiore ragione che non altri molti quasi senza numero qui veggiamo correre di continuo senza cautela e anche senza ritegno dove più infierisce la pestilenza se alcuno poi contra esse il morbo quando altri venissero a mancare io stesso che sarò in mezzo a voi ogni giorno per soccorrere i bisognosi mi presenterò io prenderò a cuore la duplice vostra salute io accorrerò volentieri a subvenirvi e già da questo istante a voi mi offro ministro dei sacramenti se lo richiederà il bisogno io che confidando nel divino aiuto ho fermo di non risparmiare fatiche o pericoli per compiere il mio pastorale ufficio e contribuire alla salute del greggio e commessumi con tutti i mezzi che saranno in mio potere l'appello è per quelli più vicini i suoi sacerdoti coloro che dell'arcivescovo hanno seguito le omelie le istruzioni e con cui si è consultato e ha lavorato quella struttura di base su cui si regge la chiesa milanese ma quale impegno per dissolvere la paura io stesso prenderò a cuore la duplice vostra salute con tutti i mezzi che saranno in mio potere il 22 febbraio 1579 il borromeo annuncia entro pasqua la pubblicazione del memoriale per aiuto di questi buoni principi e per debito dell'ufficio nostro in occasione di beneficio tanto importante cioè di milano si può dire rinasciuto con questa divina liberazione ci risolvessimo allora non contentarci dei ricordi dativi in voce ma raccontarveli anche in un breve libretto almeno alcuni punti di essi più principali sotto titolo di memoriale ma non lo dessimo fuori a quel tempo parendoci che per allora fosse più necessario occuparli in molte altre nostre pastorali sollecitudini con noi che in darvi memoria scritta di beneficio così insigne come quello che dio ci aveva fatto pure allora et degli obblighi nostri per esso tanto manifesti et di tutti quegli uffici insomma che così di recente vi avevamo ricordato pienamente in voce non era bisogno qui d'altri memoriali dove continua dio a munirvi con i suoi flagelli et noi ancora come pastor vostro vi abbiamo invitati e importunati istantemente per tutti i mezzi a questi uffici questi stessi motivi sono tanti memoriali vivi usciti dalla bocca di dio per chi vuol dare orecchi alle sue voci o figliuoli dov'è l'intelletto dov'è la memoria dov'è il cuor vostro siete così fuori di voi così tosto siete scordati della peste et poi della sanità ricevuta siete smemorati scordati e non avete cuore avete occhi e non vedete orecchie e non udite quello che bisogna per la salute vostra siete dunque così scordati di voi ora sì carissimi figliuoli che vedo necessario non differir di darvi fuori quel nostro libretto intitolato memoriale perché possiate avere innanzi agli occhi con che rinnovare la memoria dei nostri obblighi con dio benedetto in occasione della passata pestilenza et sua liberazione e non abbiate pretesto di scusa più di vivere a caso né come smemorati et scordati di quel segnalato beneficio verrà dunque stampato il memoriale ed uscirà questa pasqua con la divina grazia in quel tempo appunto che molti uomini come smemorati et scordati in un tratto di essere in quei santi giorni lavati dai peccati loro nel prezioso sangue del salvator nostro risanati nelle sue piaghe santissime vivificati nella sua morte e seco consepolti all'uomo vecchio e con resuscitati ad una nuova vita di grazia subito sogliano così vergognosamente ritornare ai peccati et ricader nel sordido fango delle sue immondizie et far così mortali recidive a quel tempo uscirà il memoriale il quale non meno vi servirà a tenere memoria di quel grande beneficio della vostra redenzione e santificazione dell'anima e degli uffici quali perciò dovete addio che nella liberazione passata della peste e degli obblighi vostri di gratitudine per questo conto analisi speciale la sua l'espressione memoriali vivi che introduce come modalità del racconto è efficace e si combina con l'incessante orazione con la gratitudine con la sanità con la scrittura dell'esperienza mai acquisiti una volta per tutte questi elementi nella narrazione nella lettura e nella scrittura sono sempre nuovi perciò questo libretto perché non abbiate pretesto di scusa più di vivere a caso né come smemorati et scordati il memoriale vivo la memoria di ciò che non è mai stato deciso a pubblicarlo per scongiurare il ricordo della rovina della punizione della morte deciso a pubblicarlo per esporlo ciascuna volta alla lettura all'oralità all'ascolto il quale vediamo non tanto come compendio di tutti i nostri ragionamenti passati quanto per memoriale perpetuo della grazia ricevuta e di quel che per rispetto ad essa dovete fare ma perché i ragionamenti sodano una volta e solamente da quelli che vi sono presenti ne arrivano in tutti i luoghi ebbene spesso se non sono sovente ripetiti si scordano in tutto o in parte noi a ciò che tutti voi e in ogni luogo e tempo siate citati a conoscere e riconoscere con frutto il beneficio ricevuto abbiamo voluto quel che vi è stato da noi in più volte sopra di ciò diffusamente detto raccogliar tutto brevemente in questo libretto il quale vediamo non tanto come un compendio di tutti i nostri ragionamenti passati quanto per memoriale perpetuo della grazia ricevuta e di quel che per rispetto di essa dovete fare e di qui è che l'intitoliamo e chiamiamo memoriale il quale avemo diviso in due parti nella prima parte vi proponiamo quattro capi che tutti mirano a uno solo cioè conoscere bene come abbiamo detto la grazia ricevuta dalla mano di dio nella seconda distinta pure in alcuni altri capi trattiamo qualche parte degli uffici con i quali voi dovete perpetuamente e riconoscerla e farne frutto per salute e ben vostro nelle cronache delle varie pestilenze il fuggi fuggi è generale anzitutto rispetto alla questione intellettuale dunque alla battaglia la severità e la sordità con cui si cerca di aggiustare le cose generano una dipendenza psicofarmacologica in questa estrema provocazione quel che importa è contenere la disperazione economizzare il male e la morte rendere tutto accettabile sono uomini che si reputano licito tutto quello che possono sono uomini che si possono permettere tutto il borromeo non adotta queste misure la sua forza è quella di non saperne nulla di non avere l'intelletto offuscato di chi si appoggia alla gloria di questo mondo siano essi poveri o ricchi e di non sottrarsi all'occorrenza così vicini alle porte della morte siamo rimasti vivi ma ora ritorniamo a quel che principalmente ci avemo proposto in questo memoriale cioè che tutti conosciamo la grandezza del beneficio che la misericordia di dio ci ha fatto di liberarci dalla peste per conoscerla figliuoli non occorre cercare da lungi testimoni tutti noi che in così manifesto pericolo così vicini alle porte della morte siamo restati vivi possiamo attestare e predicare che abbiamo ricevuto di nuovo la vita milano prima e dopo la peste del 1576 pochi anni dal 1524 pochi anni dal 1630 dalla disforia all'euforia di nuovo alla disforia fuggivano i grandi fuggivano i bassi ti abbandonarono allora tanti e nobili e plebei nel ricordo di ciò che era stato tu milano restasti come fuori di te stupito incantato senza lucidità in preda al terrore all'orrore al panico come accade ogni volta nell'emergenza come sono ora mutate le cose quelle cose ormai gestibili pianificabili padroneggiabili a ogni contrada in ogni casa in ogni ragionamento ognuno stupisce e si incanta nel suo stupore così pareva che milano in poco tempo essendo la peste così fieramente accesa si avesse a consumare nell'incendio di essa e che questa consunzione avesse già avuto luogo e che il tempo fosse già finito a milano puoi ancora chiederti come fare come vivere tu milano affamato angustiato e bisognoso di essere continuamente soccorso per vivere dalle città dai castelli e dalle povere ville d'ogni intorno restasti come fuori di te stupido incantato così in quei principi specialmente abbassò l'ira divina in un tratto tutte le tue grandezze o bontà e grazia di dio come sono ora mutate le cose come sono subito reparate quelle rovine nostre come restituita la sanità rinnovate le speranze della prima grandezza sono spiantate quelle case di assi e paglia sono coltivate le campagne dove allora abitavano al sereno tante famiglie dorme sicuramente ciascuno nelle sue case sono aperte le botteghe è restituito il commercio in tutto questo stato ne vi è causa più perché non concorrano come prima le genti da ogni parte le chiese le contrade le piazze sono piene di uomini non vi è luogo talvolta ad uscire vengono forestieri da lungi a vedere questa meraviglia ognuno stupisce e chi non stupirebbe sapete pur voi che da principio appena si sentì la voce che la peste era in milano che subito parimente da ogni intorno e in ogni parte pareva sempre risonassero voci della rovina di questa gran città è caduta è caduta babilonia e tutte le statue dei suoi dei sono infrante sulla terra così profetò isaia di quella gran città pareva che queste stesse voci si cominciassero a verificare di milano o tu che sia di sopra le molte acque ricca dei tuoi tesori è venuto il tuo fine il punto fisso del tuo eccidio che dio operi e intervenga è chiaro nella linguistica del cattolicesimo e nella costruzione del cardinale come restituire la sanità si chiede non come assistere i moribondi anche la parabola citata più volte nei documenti del borromeo di quell'uomo che creduto morto perché colpito da peste e non morto perché non aveva ricevuto il sacramento dell'eucarestia è davvero bella nessuno muore né cerca né vuole la morte ma a partecipe del sacramento non le sopravvive risparmiandola i sopravvissuti vivranno di morte saranno conculcati come dice il borromeo nella morte e nelle infermità una morte partoriva l'altra un'infermità l'altra il morbo d'uno si propagava in molti ma ecco che la bontà di dio in un tratto mutò le cose chi avrebbe mai pensato umanamente che dovessero le cose ridursi a questo tempo nel stato che ora sono che grande mutazione è questa è restituita la sanità e la vita e pare un nuovo milano eravamo conculcati nelle morti e nelle infermità nostre una morte partoriva l'altra una infermità l'altra il morbo d'uno si propagava in molti così andavamo morendo in questa miserabile infezione situazione eravamo confusi vergognati nei peccati cagione di queste ruine passò dio ci vide con quell'occhio suo paterno e con li stesso ci diede la vita e la sanità rivesti le contrade riempi le case rasserenò i visi degli uomini rinnovò la frequenza delle chiese ha restituito i commerci ha mutato tutta la faccia di milano di maniera che è in fiore in giubilo come prima e pare un nuovo milano niente più vergognosi ricordi della vita passata niente più attesa di una morte annunciata ineffabile niente più ricette o rimedi della stupidità niente più umana consolazione la vita non è passata non è futura non è presente non è questo l'eterno non è questo l'attuale godete intiera sanità la vita è attuale rivedeste similmente i figliuoli vostri sani fusti liberi alle case vostre godeste intiera sanità niuno si chiuse più le nari alla presenza vostra niuno aburrì di vedervi niuno fuggì di accostarvisi fusti sicuri e consolati nel mezzo dei vostri figliuoli vedeste questo popolo liberato universalmente non sentiste più nuova di questo di quell'altro luogo dove fosse di nuovo entrata la peste purgaste la conscienza con la confessione generale di tutta la vita passata e questa cessazione vi diede intelletto vi ridusse al cuore vi fece proporre una nuova vita leggendo il memoriale colpisce l'assoluta generosità del cardinale la narrazione della sua traversata nessun tentativo di spianare l'equivoco di rettificare la menzogna di dissipare il malinteso nessun tentativo di piacere agli uni e di non disturbare altri qualcuno può attribuirsi il merito dell'estinzione della peste non è la prudenza nostra non è la scienza dei medici non la diligenza di chi sia intorno agli infermi ma dice la gran misericordia di dio nulla di attribuibile agli umani c'è da chiedersi se il borromeo non ci stia restituendo qualcosa dell'originario e se la parola originaria possa teorizzarsi o scriversi prima o dopo e se qualora trovasse i termini per scriversi quell'istante possa essere scritto o se si scrive ciascuna volta ne venga restituito il testo come dunque sarebbe mai estinta questa peste si gagliardamente accesa con così poca perdita d'uomini se non per grazia e misericordia di dio poiché infatti ella è di tal condizione che e nella sua cura e negli effetti suoi vi ha pochissimo luogo ogni umana prudenza la prudenza se fosse umana graverebbe sul ricordo senza nessuna chance per la salute di seguito nel memoriale indicazioni e la scommessa per la salute così in una lettera al padre provinciale dei gesuiti a genova il 13 novembre 1576 che quando anche alcuno ci lasci la vita non si deve mettere a conto di perdita poiché l'occasione è così importante è la bontà dell'arcivescovo questa non è con la volontà di bene che non si perde la vita è altruismo la stessa volontà di bene assiste la morte dell'altro io ultimamente vi ammonisco vi prego vi scongiuro che non siano in voi tanto vane le fatiche le parole i ricordi che vi ho dato e in voce tante volte e ora ultimamente iscritto con questo nuovo memoriale e che la polvere dei miei piedi finalmente che ho usati per voi non abbiano mai ad accusarvi contro mia voglia di non aver fatto frutto quale frutto la salute ma l'approccio dei contemporanei è sempre pestifero e mortifero intanto la conta dei morti a fronte di quella del 1524 dove se ne contano decine di migliaia e quella del 1630 dove si sfiorano i 100.000 quella del 1576 detta appunto la peste di san carlo ne annovera dai 10 ai 18.000 a seconda delle fonti il lazzaretto posto infame situato alle porte della città viene riorganizzato dal un padre cappuccino nota che gli va spessissimo al lazzaretto e par che risuscite le persone con la presenza sua carlo bascapè suo biografo ne percepisce gli effetti ma non è in grado di restituirne la narrazione se non nella convenzione ageografica differente l'apporto di fra paolo bellintani che nel suo dialogo sulla peste oltre che una cronaca di quanto vi accade e di un resoconto della gestione del lazzaretto che raccoglie in quasi un anno di permanenza nella struttura redige questo dialogo come informazione globale in fatto di peste vivevano in molti nel lazzaretto ammalati e non quelli che non erano ammalati non necessariamente lo sarebbero stati vuoi per il compito che avevano assistenti medici fornitori confessori parenti vuoi per l'architettura stessa del luogo celle non comunicanti da una parte i sani dall'altra i malati impossibilità di aggregazione la chiesa era posta in mezzo a pianta circolare con le pareti aperte in modo che ciascuno potesse assistere alla messa anche da lontano il bellintani ne fa una descrizione accurata dall'interno pensando che possa costituire un'esperienza utile in altre occasioni non sarà così neanche a che vedere però con il memoriale di carlo borromeo la descrizione del bellintani è inconcludente senza l'invenzione del borromeo ha obbligato come sapete i parroci a continuare nel loro ministero ma non bastano per tutta questa moltitudine nota il cardinale la gente chiede i sacramenti come unica maniera di non soccombere alla morte e anche i parroci hanno paura ma non tutti non ciascuno non coloro di cui ancora viva la testimonianza alla necessità assoluta il cardinale non si sottrae e chiede cerca supplica e spropria fa incetta del necessario senza rispetto alcuno del soggettivo e del personale e riuscì questa incetta abbondante riferisce erri pamonti che i richiesti sarebbon si vergognati di non secondare l'illustre esempio del loro pastore e ancora ecco gli effetti svanì anche l'accennata domestica diserzione per divino volere ammirazione della fermezza del cardinale e subitaneo mutamento di volontà tanto che chi partecipò a questa battaglia dichiarò di non volersene più allontanare stante l'emergenza e oltre e pertanto raccontano che appena ebbe gli visitato il lazzaretto e se ne tornò a casa ogni domestica l'autezza di vestimenti e tappeti comandò si vendesse a cavarne danaro con cui alleviare la inopia di tanti infelici quanti gliene erano caduti sott'occhi in quella stanza di inaudite angosce ogni sua tenda pagliericcio materasso lenzuolo colà mandò appena ritenuto lo strettamente necessario a sé e suoi quanti vasi poi di preziosi metalli si trovò avere altrettanti consegnò alla zecca da essere conversi in moneta e perché col vie più infierir della moria crescea di pari passo la miseria e quei provvedimenti mai chiarivansi insufficienti si studiò supplirvi per ogni verso mandava cercatori in proprio nome per le città e le campagne i quali vi facessero incetta di quanto era necessario e riuscì questa incetta abbondante che i richiesti sarebbon si vergognati di non secondare l'illustre esempio del loro pastore provveduto così alla urgenza del vitto subentrò sollecitudine non meno penosa per sottrarsi che ciascuno faceva dal prestare la propria opera a soccorso degli infermi il cui contatto veniva giudicato ed era infatti chiarito esiziale onde che gli stessi parochi e gli altri che da sagri voti si trovavano stretti a ritroso da principio prestavansi indi cominciarono lorché venivano chiamati per confessar moribondi e porger loro gli altri ecclesiastici soccorsi cominciarono dico a tergiversare e ritirarsi fra gli stessi familiari del cardinale venebbero non pochi che vedendolo rimescolarsi con gli appestati quasi sfidando il contagio lo abbandonarono ondegli a mirarsi crescere intorno il vuoto avvisò trovare rimedio al duplice abbandono dei sacerdoti e dei domestici con chiamare a sé promettendo larghe mercedi di presente e per il futuro idonei collaboratori dalle pievi elvetiche sapeva quegli uomini per loro fisico nonché per morale essere più acconci a sfidare la paura della peste e questa lue per noi sia abominanda parer ad essi poco diversa da febbre o scabbie così fu sapientemente provveduto che né a corpi mancasse l'opera di infermieri soccorritori né all'anime quella di sacerdoti confortatori e contemporaneamente svanì anche l'accennata domestica diserzione per divino volere ammirazione della fermezza del cardinale e subitaneo mutamento di volontà a tale che i testei impauriti e fuggiaschi fecergli si innanzi reduci e proferitori dell'opera loro dichiarando di non volerlo più abbandonare sinché s'avessero fiato di vita anche monaci che col pretesto dell'istituto o adducendo altre scuse se erano sottratti di nuovo chiamati presentaronsi parati ad accompagnare l'arcivescovo ovunque fosse per andare a costo da verne a morire tra servi e ministri ormai cresciuti a buon numero nove ne lesse carlo destinati a stargli sempre a fianco pronti a disimpegnare ogni sua commissione ufficio tale da incutere spavento costoro e se medesimo siccome sospetti di peste volle che dai sani fossero evitati e che ciascun dessi si recasse in mano una verga la quale fosse segnale a non infetti di scostarsi da loro che del contagio avrebbon di leggeri potuto essere trasmettitori dichiarando poi se medesimo sempre indiziato o sospetto provvide che la sala ove soleva di sbrigare le bisogni pubbliche fosse divisa in due da uno steccato per guisa che egli rimanendosene da un lato parlava ad alta voce a coloro che stava gli discosti nell'altro e però l'avvenuto andò tanto lungo dal temuto che cioè il cardinale propagasse la peste che fu notato negli né alcuno di quei suoi collaboratori aver unquapatito a quei giorni nemmeno un lieve dolore di capo da molti elementi il ripamonti e all'accusa che il cardinale per coordinare gli interventi propagasse la peste riferisce che fu notato che nessuno dei suoi collaboratori e nessuno di coloro che erano stati coinvolti aver unquapatito in quei giorni nemmeno un lieve dolore di capo ciò non toglie che la partita si giochi giorno per giorno e che la peggiore insidia sia il dubbio attribuito a sé o all'altro molti come se un fulmine li avesse tocchi cominciarono a inorridire del loro ufficio certuni celevansi altri scamparono dalla città venebbero che dichiararono non tenersi obbligati a così rischioso ministero questa posillanimità la si riscontra anche quando il cardinale convoca per i vari sinodi e concili quante scuse rimandi impossibilità giustificazioni modestie vergogne riserve nequitosa infingardaggine avanti le calende di gennaio il pericolo di morte per peste sarebbe cessato questo il voto a san sebastiano enunciato sebbene non si avesse subitanea salute dappertutto stragi e cumuli di morti e aspetto di città maledetta da dio si ricordò carlo borromeo allora del martire sebastiano per la cui intercessione da simile flagello la città era stata un'altra volta liberata reputandolo dal lato materno originario milanese sperò che a cotanto malore della patria non verrebbe egli meno dove puramente e piamente lo si invocasse e pertanto celebrate solenni preci in duomo e convocato ai santi misteri il popolo concionò l'atterrita moltitudine intorno al sussidio che doveva invocare dal martire ed insistette che un pubblico voto avesse a farsi in di lui onore affermò che avanti le calende di gennaio la peste sarebbe finita soltanto lo credessero si astenessero dal peccare e fidassero nella provvidenza milano a vedere indi come volsero gli eventi ebbe a reputare quel vaticinio essere stato suggerito al borromeo da dio conciosi a cosa che proclamato il voto sebbene non si avesse subitanea salute le stragi e i mucchi di cadaveri di giorno in giorno vennero scemando e il morbo all'epoca annunciata sparì i milanesi al santo liberatore alzarono una chiesa nel sito ov'eran le vestigia di una cappella statagli anticamente dedicata la impirono di lordoni ed ogni anno la festa di san sebastiano è celebrata nella città era scontata questa riuscita per nulla ma è ancora un evento è ancora una sorpresa è ancora una novità assoluta padronanza di federico nel racconto nell'intervento nella spiegazione nell'epilogo a proposito della peste del 1630 la cronaca del ripamonti e il resoconto dello stesso federico sono indicativi proseguendo il cardinale nelle sue investigazioni dall'alto della sua saviezza della quale fecesi largo uso scrivendo ed operando emise questa opinione rispetto alla origine della peste che la fu inflitta e per volere divino e per umane cagioni si valeva ad autorità domero del quale adoperarono filosofi gravissimi e padri santissimi dimostrando che il muovate non aveva senza una recondita ragione rappresentato febo in atto di vibrare suoi pestiferi dardi e così affermando egli che era stato il volere divino a siffattamente sferzare i mortali studiavasi chiarire la nostra peste doversi a scrivere a decreto superno argomentavalo da ciò stesso che le tedesche schiere che avevano diffuso il contagio in città ne erano andate esse quasi che immuni né senza una misteriosa volontà l'esercito cattolico acquartierato a casale aver ricevuto quotidianamente vettovaglie da qui mentre la peste ci tribolava senza andarne esso infetto certi luoghi e certi uomini trovare un dato rimedio contro del tremendo male altri ricorrere con buon esito ad altro rimedio ed a morbi diversi aver soggiaciuto chi dalla peste era ito sciolto tanto che nel recinto del lazzaretto quella notte che per la inondazione avrebbe potuto di leggeri riuscir suprema e rinchiusi nì uno dalla furia dell'uragano fu spento e però la peste quasi che tutti indi li rapì era cioè destinato che quei meschini non solo perissero ma di peste perissero così rimontava egli al divino beneplacito per rispiegare le cause e gli inizi della moria quanto poi alle cagioni umane ne ragionava al modo seguente poco discosto dal riferito la peste diceva provenne dalla carestia e la carestia si generò nella sterilità dei campi originata dalle militari devastazioni e dalle intollerande violenze di che gli stranieri avean afflitte le nostre terre sendo che la razza lombarda è delicata e forte nel tempo stesso naturalmente gagliarda come attestano le storie a sostenere guerre e fatiche per riscontro mal riuscente a sopportare i tedi inflittile dall'altrui corruttela e superbia provenirle ne è più pungente la sensazione dei mali e nella facile disperazione dei medesimi trovar la peste meglio parati alimenti queste erano le opinioni del cardinale relativamente alla origine del contagio riferentisi come vedemmo non meno alle cagioni divine che alle umane discostissimo dall'opinare che derivasse da frodi artifici o cospirazioni di stranieri principi desiderosi di spopolare la città per indi occuparla assoluta credenza nell'idea di contagio di diffusione programmata di manifestazione del castigo divino ma soprattutto di sacrificio e di accettazione bisognava però preservare per il futuro beni materiali e spirituali che avrebbero dovuto ricostituire la schiatta degli uomini ma da che il contagio aveva preso a insinuarsi e a diffondersi in modo sempre più pervasivo perché non si estinguesse l'intera categoria degli artigiani della città avrebbero dovuto inviare i maestri e i più abili esponenti di ogni settore in località salubri e colà mantenerli a spese dello stato da parte nostra all'insorgere dell'epidemia considerammo attentamente quali fossero nella totalità del clero gli elementi migliori e più validi e costoro purché non fossero impegnati nella cura delle anime o in altri incarichi analoghi li inviamo fuori città ancora un'altra citazione prima di congedare federico rispetto alla apocalittica pestilenza del 1630 nel capitolo quinto i metodi per diffondere la peste e la loro origine dopo aver raccolto ipotesi e dicerie conclude tutte queste erano le storie che circolavano aneddoti che noi non intendiamo confutare né avallare ciò nonostante siamo inclini a ritenerne fondate molte alessandro manzoni giudica più efficace la pestilenza del 1630 per intrecciarla nel suo romanzo e nonostante sottolinei la non precisa cronaca dei fatti da parte degli storici compreso il ripamonti tuttavia accoglie il mito instauratosi a proposito di san carlo nella peste del 1576 tra le memorie così varie e così solenni d'un infortunio generale può essa far primeggiare quella di un uomo perché a quest'uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora di mali marco formentini non tollera né il modo né la misura dell'intervento carolino e nel suo libro la dominazione spagnola in lombardia non gli risparmia nessuna accusa a proposito delle quali agostino gemelli fa un'analisi medico filosofica sociale e giunge alla conclusione che dati gli errori dell'epoca e l'ignoranza e le superstizioni in materia medica la peste di san carlo così è denominata poiché il santo si prodigò per gli ammalati abbiamo avuto modo di leggere qualcos'altro nell'opera di carlo borromeo senza necessariamente dover associarla e condizionarla all'epoca o milano tante città e popoli solamente sentendo parlare da lungi della tua peste dei tuoi pericoli e spaventi si sono vestiti di sacco si sono coperti di cenere poi tante città e tanti popoli hanno sentito parlare del beneficio miracoloso della sanità o milano tante città e popoli solamente sentendo parlare da lungi della tua peste dei tuoi pericoli e spaventi si sono vestiti di sacco si sono coperti di cenere hanno digiunato hanno fatto processioni a piedi nudi hanno riformato molti abusi hanno bandito molte dissolutezze hanno dato vari testimoni di pentimento e emendazione se tu non fai veri frutti di penitenza quanta necessità o io di dirti sin ora da parte di dio vetti ibi vetti ibi guai guai a te che sono tante città castigate severamente da dio nelle quali se egli avesse fatto i segni e parlato loro con quelle voci che ora ha risonato in te visitandoti prima col flagello spaventoso della peste poi con il beneficio miracoloso della sanità forse avrebbero fatti frutti di penitenza e non averebbe poi a sfogarsi sopra di loro la giustissima ira sua certo è dilettissimi figliuoli che dio abborrisce il peccato dell'ingratitudine e tien conto minutamente dei buoni o mali riconoscimenti nostri verso le sue grazie ora odi tu o città di milano guardati di gloriarti superbamente della sanità cura godi in questa tua bellezza della quale sei rivestita di nuovo solamente per beneficio di dio e siano a te milano per un ricordo e memoriale a ciò che ti mostri grato del beneficio ricevuto e da questa gratitudine ne cavi frutto salutare odi tu o città di milano guardati di gloriarti superbamente nella sanità cura godi in questa tua bellezza della quale sei rivestita di nuovo solamente per beneficio di dio la sanità non ha durata e non è gratuita non finisce non si perde e non è per merito diretto occorre dio come operatore per la sanità la salute e la vita nostra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti